Ciao a tutti, in questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa gonna copricostume creata su misura quindi vi dovrete prendere le vostre misure e seguendo i passaggi del tutorial riuscirete a realizzarla proprio su misura per voi la realizzazione è top down, infatti sono partita dall'alto, ho creato con l'uncinetto tunisino questo cinturino poi ho ripreso le maglie lungo il cinturino e realizzandola chiaramente a maglia ho lavorato la lunghezza della gonna facendo degli aumenti in maniera da averla leggermente svasata chiaramente anche la lunghezza della gonna sta a voi, se la volete fare più lunga, più corta, come volete io appunto utilizzandola da copricostume l'ho fatta alta circa 35 centimetri per tutte le tecniche che utilizzerò durante il tutorial vi lascio qui sotto nel box informazioni i link ai video dedicati comunque durante il tutorial ve le spiego comunque le tecniche però diciamo che lo faccio abbastanza velocemente se no questo video veramente durava tantissimo ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla per iniziare abbiamo bisogno del filato io ho scelto questo che è il queen della tessiland è composto dal 60% di cotone e 40% di poliamide e in 100 grammi ci sono circa 180 metri qui consiglia i ferri dal 6 all'8 io per avere la tensione corretta di 17 maglie per 22 ferri ho bisogno di lavorare con i ferri numero 6 però lì dipende da voi perché vi conviene fare un campione di 10 cm per 10 cm e vedere con che ferri riuscite ad avere la tensione corretta sempre all'inizio io ho messo un cavo da 60 cm ma poi mano a mano cambierò il cavo e ne prenderò uno più grande poi ci serve un contagiri un metro da sarta un uncinetto anche qui io ho scelto il numero 4 però lì dipende dalla vostra mano dei marcatori un ago da maglia e delle forbicine ma adesso iniziamo con le spiegazioni per prima cosa con il metro da sarta dobbiamo prendere le misure della vita e dell'altezza finale della gonna io visto che la voglio a vita diciamo così bassa ho come vita 80 cm questi 80 cm devo sapere a quante maglie corrispondono quindi li devo moltiplicare per 17 che è il numero delle maglie che abbiamo in 10 cm nel nostro campione e dividere per 10 quindi mi dà un risultato di 136 maglie in realtà questo risultato deve essere divisibile per 6 136 è divisibile per 6? no perché mi dà un numero con la virgola quindi al rotondo ha 132 maglie che è divisibile per 6 infatti mi dà 22 l'altra misura che dobbiamo prendere è l'altezza che noi vogliamo abbia la gonna beh questa è indicativa e soprattutto molto soggettiva perché lì dipende dai vostri gusti per me mi piacerebbe avere un 35 cm di altezza visto che comunque la porterò come copricostume o comunque per andare al mare 35 cm a quanti ferri corrispondono? si rifà un'altra volta alla proporzione e cioè 35 cm si moltiplicano per i ferri che noi abbiamo in 10 cm e quindi 22 e si dividono per 10 quindi 77 che è per me un numero perfetto perché il nostro multiplo sarà proprio di 11 quindi 77 è divisibile per 11 e fa 7 adesso iniziamo a fare il cinturino della nostra gonna siccome io lo voglio resistente e che non si lascia andare lo farò con la tecnica tunisina appunto maglia se mai vi lascio qui in alto o nel box informazioni il link diretto al video dedicato quindi lascio una coda di 2-3 metri e poi inizio ad avviare 6 maglie quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giro la mia catenella e dal dietro riprendo le maglie 1, 2, 3, 4, 5 quindi 1, 2, 3, 4, 5 e quella che avevo sull'uncinetto è la sesta perfetto poi appunto con la tecnica tunisina torno indietro e quindi lavoro la prima asola da sola e poi carico l'uncinetto e le chiudo a 2 a 2 così come si fa normalmente appunto nell'uncinetto tunisino anche le ultime due le chiudo per lavorare appunto maglia cosa bisogna fare anziché prendere la barretta normalmente e caricare il filo per estrarre la nostra asola noi dobbiamo andare nel centro qui non si vede semmai vi aumento un po' la luminosità perché è blu e perché il primo giro è un po' difficile da vedere però entro nel centro di quest'asola quindi passo praticamente la prendo e passo nel retro prendo il filo lo porto sul davanti e così anche per la seconda entro nell'asola quella verticale passo nel retro carico il filo e tengo l'asola sull'uncinetto e continuo così l'ultima si vede male perché è una barretta per cui entro e prendo vedete i due fili quindi io quando entro avrò due fili carico l'uncinetto ed ecco così la mia asolina e così adesso chiudo come si fa normalmente quindi prima una sola e poi a due a due e riparto entro nell'asola passo nel retro e tiro fuori la mia asolina quindi la vedete questa è quella verticale vediamo se così è meglio entro proprio nel centro vedete e passo nel retro io adesso lo allargo per farvelo vedere ben bene vedete queste sono quelle aspettate eh queste sono quelle di ritorno e questa è la mia asola se io entro nel centro vedete passo direttamente nel retro carico l'asola ed eccola qui e andiamo avanti così l'ultima vi ho detto è questa verticale però devo prendere non solo un filo ma i due fili ed ecco qui perché devo avere sempre le sei maglie caricate sull'uncinetto poi per chiudere chiudo sempre la prima da sola e le altre a due a due e vado avanti in questo modo fino ad avere un una lunghezza perché noi qui lavoriamo vedete le sei maglie le porto in lunghezza fino ad avere una lunghezza totale di 80 centimetri nel mio caso perché la mia diciamo così vita bassa è di 80 centimetri ok sono arrivata a poco meno di 80 centimetri dico poco meno perché comunque questo punto è un punto elastico e visto che io lo sto facendo a vita bassa non vorrei che appunto mi diventasse un po' troppo largo si lasciasse leggermente andare magari anche col calore insomma non so e poi insomma mi cadesse la gonna e quindi mi sono tenuta un pochino indietro adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a contare quante V ci sono nel nostro cinturino aspettate che ve lo prendo su un punto chiaro che così si vede eccole qua le V sono queste vedete come quelle della maglia le contiamo perché dobbiamo sapere quante V ci sono perché poi dobbiamo riprendere le maglie lungo il bordo e dobbiamo fare un calcolo nel mio cinturino ci sono 150 V quindi siccome io devo riprendere 132 maglie dobbiamo fare le maglie del cinturino meno le maglie da riprendere e nel mio caso chiaramente perché lì dipende dal vostro delle vostre misure quindi dal vostro cinturino e dalle vostre maglie che dovete riprendere però vi faccio vedere nel mio caso perché più o meno farete anche voi così quindi ci sono 18 maglie in più dunque io direi che un 5 maglie me le lascio per il sormonto quindi 18 in più meno 5 sono 13 chiaramente questo mi fa capire che se io devo avviare riprendere 132 maglie e ci sono 13 maglie in più sul cinturino le riprenderò così riprendo 10 maglie e ne salto una poi ne riprendo 10 e ne salto una perché 132 mi dà appunto ogni 10 13 maglie quindi adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro cinturino entriamo come abbiamo fatto prima per il punto tunisi ma questa volta chiudiamo con un punto basso quindi rientriamo e chiudiamo proseguiamo fino appunto all'ultima maglia e poi andiamo a riprendere le maglie che sono appunto quelle che vi dicevo delle V non so se qui riuscite a vederle ve lo faccio vedere sul chiaro vedete queste V ecco le dobbiamo riprendere per il mio conteggio abbiamo detto che devo riprendere 10 maglie e saltarne una qui posso riprenderle direttamente con l'uncinetto numero 4 ma stando molto morbida perché poi andrò a lavorare con dei ferri che sono del numero 6 oppure posso cambiare l'uncinetto con un uncinetto di numero adeguato o riprenderle direttamente con i ferri io per ora cambio l'uncinetto con un numero più grande e riprendo le maglie quindi entro nella prima V che la prima è quella che si vede meno e solo per questa volta chiudo scusate entro nella prima V e solo per questa volta chiudo la maglia perché questa era ancora la maglia da chiudere del bordo poi le riprendo tutte entrando nelle V quindi 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 e per me devo saltare una V di base quindi la salto e torno a riprendere 10 maglie poi cosa faccio se avete come me gli uncinetti che non hanno il manico potete far scivolare le maglie in fondo all'uncinetto e portarle direttamente sul ferro in questa maniera io adesso proseguo a riprendere tutte le maglie e poi vi faccio vedere la lavorazione ho ripreso tutte le maglie e adesso lavoro in ferri di andata e ritorno quindi non chiudo in circolare per adesso ma lavoro a ferri di andata e ritorno il primo ferro lo calcolo come un ferro zero di impostazione e quindi lo lavoro a rovescio ho finito di lavorare il ferro a rovescio di impostazione e adesso proseguo a lavorare 10 ferri a maglia rasata sempre con ferri di andata e ritorno quindi il primo ferro sarà a dritto e tutti i ferri dispari saranno a dritto il secondo ferro e tutti i ferri pari saranno a rovescio bene ho fatto il decimo ferro e adesso inizio l'undicesimo che sarà un ferro di aumenti questa volta ho deciso di fare gli aumenti con il gettato lasciando il buchino quindi poi verranno lavorati normalmente proprio come effetto decorativo quindi nell'undicesimo ferro proseguiamo così tre maglie a dritto uno due tre e un gettato poi si prosegue per tutto il ferro facendo sei maglie a dritto quindi uno due tre quattro cinque sei maglie a dritto e un gettato e quindi appunto ripeto in continuazione sei maglie a dritto un gettato fino alla fine e poi avrò le ultime tre maglie a dritto nei ferri successivi si lavorerà a maglia rasata normalmente fino al ferro 20 il ferro 21 ve lo faccio vedere poi uniremo in tondo e quindi lavoreremo in circolare perfetto ho appena finito il ferro 20 e adesso facciamo il ferro 21 dove appunto chiudiamo in circolare tiriamo via per il momento il marcatore e per chiudere in circolare questa volta scambiamo due maglie quindi l'ultima maglia la tiro giù dal ferro metto sul ferro di destra la prima maglia del ferro di sinistra e poi rimetto sul ferro di sinistra la maglia del ferro di destra spero di averlo fatto in modo che voi beh si guardate si vede perché una è azzurra e l'altra è blu quindi praticamente quella azzurra era da questa parte e l'ho caricata sul ferro di sinistra quella blu era di qui e l'ho caricata sul ferro di destra a questo punto lavoro metto il marcatore e lavoro normalmente a dritto in circolare da adesso in avanti chiaramente lavoriamo sempre in circolare quindi sempre a dritto ho appena finito il ferro 32 e nel ferro 33 faccio un giro di aumenti visto che io dovrò fare gli aumenti nel ferro 33 55 77 poi se voi volete fare la gonna più lunga potete proseguire e fare anche nel ferro che ne so 99 comunque visto che dovrò fare altri giri di aumenti se tutte le volte non voglio contare tutte le maglie per fare gli aumenti mi conviene mettere dei marcatori quindi per il ferro 33 devo lavorare 4 dritto quindi 1 2 3 4 e fare un gettato appunto come dicevo per non contare le prossime volte posso inserire il marcatore e quindi saprò la prossima volta che prima del marcatore devo fare il gettato senza dover contare poi devo proseguire lavorando 7 maglie a dritto quindi 1 2 3 4 5 6 7 e getto e anche qui inserisco un marcatore e continuo così lavorando 7 maglie a dritto un gettato e inserendo i marcatori in modo appunto da facilitarmi il lavoro fino alla fine dove mi rimarranno sempre 3 maglie a dritto le ultime 3 quindi io proseguo a lavorare il ferro 33 con gli aumenti poi lavorerò dal 34 al 54 normalmente a dritto e farò gli aumenti nel ferro 55 e nel ferro 77 bene ho fatto nel ferro 77 il mio ultimo giro di aumenti poi ho lavorato il ferro 78 normalmente a dritto e adesso devo lavorare il ferro 79 a rovescio il ferro successivo per me l'80 lo lavoro a dritto perfetto adesso inizio a chiudere a rovescio quindi filo sul davanti del lavoro lavoro due maglie a rovescio e poi io mi trovo bene a chiudere così cioè passare il filo sul retro e a cavallare la prima maglia lavorata sulla seconda è la chiusura semplice con a cavallata solo che la si fa a rovescio l'unica cosa ecco che mi trovo più comoda lavorare a rovescio e poi per a cavallare passare il filo sul retro del lavoro e a cavallarla in questa maniera vado avanti così fino alla fine del ferro ok sono arrivata ho chiuso ho chiuso anche l'ultima maglia adesso sfilo e poi con un ago da maglia chiudo perfettamente in circolare perché vedete qui rimane il gradino quindi cosa facciamo entriamo nella v in questa maniera prendendo tutte e due le gambette della v facciamo passare il nostro filo e poi rientriamo nella maglia da dove esce il filo vedete questo filo esce da questa maglia quindi ci rientriamo ecco qui e quindi abbiamo chiuso perfettamente in circolare poi dopo andremo a nascondere il filo sul retro del lavoro adesso non mi resta che finire il cinturino quindi dalla parte dove c'è il sormonto devo fare l'asola per il bottone adesso scelgo il bottone e poi vi faccio vedere come si fa l'asola e come rifinire l'apertura della gonna dalla parte del sormonto vi ricordate vi avevo detto di lasciare due tre metri di filo proprio perché adesso rientriamo nella prima v vedete qui sul blu magari un po' difficile vederlo però qui ci sono tutte le v della chiusura che avevamo fatto rientriamo nella prima v tiriamo fuori un asola e adesso in base al bottone che abbiamo scelto quindi al diametro del bottone dobbiamo fare tante catenelle quante ne bastano per far passare il bottone mi raccomando io lo sto facendo con un uncinetto ancora più piccolo del 4 con un 3 e mezzo perché questa questo anello questa questa asolina che adesso andiamo a fare dovrà essere piuttosto resistente e non dovrà lasciarsi andare perché se si allunga chiaramente la gonna ci sarà larga quindi in base appunto al diametro andiamo a fare tante catenelle quante ce ne servono e poi riattacchiamo nell'ultima v e lo chiudiamo con una maglia ops scusate mi è scivolato e lo chiudiamo dicevo con una maglia bassissima eccolo qui io per sicurezza questa si ci passa il mio bottone comunque fate sempre la prova a vedere se il bottone passa per sicurezza cosa faccio torno indietro giro il lavoro e torno indietro lavorando tutta la mia asolina a maglia bassa quindi lavoro tante maglie basse quante catenelle ho fatto all'inizio e mi ritrovo aspettate che vi giro ecco e mi ritrovo vedete dall'altra parte sono sotto sopra e non ho rigirato la gonna ho solo girato il pezzo del cinturino mi ritrovo dall'altra parte dove vado a chiudere anche qui nella prima v con una maglia bassissima e poi proseguo a maglie bassissime sul pezzettino del cinturino del sormonto e poi arrivo all'apertura della gonna ecco qui arrivo vedete all'apertura della gonna dove lavorerò in ogni v una maglia bassa e così faccio tutto il giro e arrivo fino a qui ok sono arrivata alla fine non mi resta che riprendere l'ultima maglia ma questa volta chiudo con una maglia bassissima poi sfilo e nascondo la la codina con questo filo poi io attaccherò anche il bottone così rimane appunto in tinta se non ci riuscite dovete utilizzare magari un filato un po' più sottile se qui nell'apertura vedete che si ondula vuol dire che avete ripreso troppe maglie perché non sempre la mano che abbiamo con l'uncinetto chiaramente è uguale alla mano che abbiamo avuto durante la lavorazione ai ferri se invece tira ne avete prese troppo poche quindi ecco deve rimanere così bello bello liscio bello piatto adesso metto il bottone e la mia gonna è finita bene come avete visto realizzarla è stato molto semplice io per la mia taglia che è circa una S ho utilizzato 200 grammi di filato chiaramente se la volete fare più lunga o comunque in una taglia più grande dovete prendere minimo 300 grammi di filato ma lì appunto sta anche in base alle vostre esigenze io questa la utilizzerò come copricostumo comunque per andare al mare quindi mi va bene appunto così cortina per oggi è tutto se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao